Siamo Massimino di Catania, buonasera, Catania-Napoli, i giocatori sono già scesi in campo, si stringono la mano, secondo minuto di gioco, cavallino papalla da Varets, lo stende, Bergonzi vediamo un po', espulsione per la Varets, e si la decisione è abbastanza difficile, ma c'è l'espulsione. Qui il Cavani ci prova, e la difesa spazza dopo l'intervento del portiere catanese, qui il Catania porta un'azione bellissima, molto vicino al gol il Catania, spreca un'occasione così, la scuola di Maran, ancora Napoli, in l'air, cerca di seguire Cavani, 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 di Blattiro, paradissima di Anduar, che manda la palla alta sopra la traversa per un calcio d'angolo, finisce qui il primo tempo. Il Napoli ancora una volta ci prova con Amsic, il sinistro che viene poi ripattuto dalla difesa, ancora il Napoli in attacco, cross in mezzo per la testa di Vargas, subentrato nel secondo tempo. Qui il Catania in attacco, Catania in attacco, sfugge molto bene l'attaccante del Catania, Morgan de Santi si salva così, la scuola partenopea. Ecco Maran, e qui Gomez va molto vicino al gol della vittoria, quando siamo quasi al novantissimo, finisce su questa azione di Gomez la partita, ma già insoddisfatto dopo 90 minuti di prestazione del Napoli. Grazie.